Puntualmente il 18 agosto a Bagnoli del Trigno, nel cuore della provincia di Sernia, si svolge Frammenti d'Antico, una festa medievale tra atmosfere senza tempo, storie e leggende, nata per celebrare Santa Caterina. Ma com'è nato Frammenti d'Antico? Ce lo spiega Franco Mastrodonato, presidente della Compagnia di Cultura Popolare La Perla del Molise. Frammenti nasce tanti tanti anni fa e nasce come Compagnia di Cultura Popolare 50 anni fa come gruppo folkloristico. E poi tante manifestazioni dai mesi dell'anno per 25 volte e l'altra più importante che è sicuramente questa, Frammenti d'Antico, siamo alla 26esima edizione. Partecipazione corale da parte della popolazione, da sempre, da quando è nata la Compagnia di Cultura Popolare fino ai nostri giorni. Bagnoli del Trigno ogni anno si veste d'Antico e per un'intera giornata fa un salto indietro nel tempo con un borgo animato da figuranti in abito d'epoca e rievocazioni che ricordano la storica elezione dei sindaci della fata Trignina e dell'incendio del castello. Nel ruolo della duchessa quest'anno, Azzurra Gallinari Miss Molise 2022 apparsa un po' emozionata. Sicuramente è una splendida emozione, sono felicissima di partecipare a questa edizione e spero che andrà tutto bene, ma siamo tutte bellissime. Siamo davanti con il duca e apriremo appunto il corteo. Il duca nel pomeriggio ha sfilato in corteo con tutta la corte sul calar della sera, si è recato nell'Antico Rione di Santa Caterina per dare inizio alla festa nel borgo, ricca di piatti tipici, balli, musiche e canti, fuochi e fantasie, in piena e coinvolgente allegria. A mezzanotte l'incendio al castello, rievocato da spettacolari fuochi pirotecnici, che ha chiuso la manifestazione, lasciando gli sposini felici e contenti e lo spettatore ancora immerso in un'atmosfera irreale di altri tempi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.